Assessore Caner, primi sei mesi del 2023, che bilancio turistico possiamo fare di questo primo semestre? Innanzitutto dobbiamo dire che i dati sono disponibili nel sito dell'Osservatorio Regionale Federato e quindi sono consultabili da parte non solo degli operatori ma di chiunque. Parlando dei primi sei mesi i dati sono positivi, abbiamo degli incrementi importanti sia del turismo domestico, quindi italiano-veneto, sia straniero, anche se ovviamente stiamo parlando, come vogliamo ripetere, dei primi sei mesi dell'anno e quindi aspettiamo la fine dell'anno per fare un bilancio più serio e definitivo. In termini di arrivi e presenze, il mercato domestico come sta andando? Il mercato domestico è andato molto bene, soprattutto per quanto riguarda gli arrivi, quindi gli italiani in particolare si sono spostati, sono andati in vacanza, ma la durata della vacanza è minore rispetto al passato, tant'è vero che le presenze sono più basse come incremento rispetto agli arrivi, il che significa che la tendenza degli italiani è di fare vacanze più corte. Parliamo delle destinazioni venete, chi sta performando meglio in questo momento? Diciamo che il lago, la montagna, le terme e il mare hanno performato molto bene in questi sei mesi, nonostante alcune difficoltà anche legate all'aspetto meteorologico. C'è stata una ripresa molto importante delle città d'arte, città d'arte che avevano pagato più degli altri in pensato la mancanza del turismo internazionale, soprattutto proveniente da extra Europa. Questo a causa anche dei blocchi, delle riduzioni per quanto riguarda i collegamenti aerei. Quindi la ripresa delle città d'arte in termini percentuali è stata molto più ampia rispetto alle altre destinazioni.